Buongiorno a tutti, la signora mi ha presentato, vi leggo due righe. Viva Lampedusa da 30 anni, un'isola a perla del Mediterraneo, che da sempre è stata simbolo di accoglienza e ospitalità verso chi arriva dal mare e in questo pezzo di terra vedeva prodo e speranza. Sono molto emozionato ed onorato di far parte del Giardino dei Giusti e di essere simbolicamente un ramo di questo albero. Voglio comunque dirvi che farei nuovamente quello che ho fatto per l'alba del 3 ottobre 2013, ancora viva dentro di me. Feci insieme al mio amico Onder, ancora mi ricordo gli occhi sgranati e le mani alzate in cerca di aiuto. Mentre eravamo fermi soccorrendo, molti di loro, ancora in acqua, ci guardavano con occhi terrorizzati e io capivo che temevano che li abbandonassi in mare. Io allora cercavo di tranquillizzarli dicendo state calmi, li prenderemo tutti, non lasceremo nessuno. Aiutare il prossimo, il fratello in difficoltà, è il mio essere. Io ho un figlio che adoro e in ogni ragazzo vedo un mio figlio. Vi posso dire che tutti gli undici ragazzi e quella ragazza mi hanno dato tanto, niente di materiale, ma mi hanno arricchito. Anche solo un sorriso può bastare a colmare il cuore di gioia e pace interiore. Sono passati tanti anni, con alcuni di loro ci sentiamo ancora, comunichiamo tramite i messenger. Robel ha un figlio e si chiama Nathan e anche Adamon. Siamo felici perché dopo tante sofferenze hanno finalmente trovato la loro strada. Non li dimenticheremo mai. Per me e mia moglie fanno parte della nostra famiglia. Anche Luam, che a settembre è venuto per il matrimonio di mio figlio, Francesco. Per lei è come un fratello. Luam è l'unica ragazza che ho salvato. La stavamo lasciando in mare perché ci avevano detto di pensare solo ai vivi. Pensavamo che fosse morta, ma lei ha avuto la forza di alzare la mano e di dire con un filo di voce help me, help me. Invece da adesso, un ragazzone di un metro e novanta, lo è stato a bordo prendendolo per la cintura dei jeans, quando era in faccia in giù, verso il mare, e sembrava già morto. Non so dove ho trovato la forza per tirarlo su. Il nostro più grande desiderio sarebbe quello di portare un giorno ad andare a trovarli in Svezia. Il mio più grande ramare, che invece, è quello di non essere usciti prima quel giorno. Come facevamo di solito, verso le sei, all'alba, anziché alle sette, ne avremmo salvato il doppio. Sono davvero onorato per la vostra nomina e che sia stata assegnata per l'efficienza e anche a Vito Fiorino, che in quel giorno era vicino a noi, in mare, e che mi urlava, vai avanti tu, che la tua barca è più veloce, intanto io vado avanti qui. Il mondo avrebbe bisogno di molto più persone giuste, persone disposte a tendere una mano. Non costa nulla aiutare chi ha bisogno. Voglio solo dire ai giovani e ai ragazzi che sono qui presenti, e anche agli adulti, per carità, quando incontrate questa gente per strada, non guardateli con occhi indifferenti, ma dategli un sorriso. Grazie per la visione!